Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo che racconta una storia turbolenta e piena di suspense dall'ambiente degli irroratori a colonie ed intorni. Un dramma sociale che è quasi un thriller. Il testo offre al lettore una profonda riflessione sui contrasti tra luce e ombra nella vita dei personaggi, le dinamiche dei rapporti umani e la lotta per il cambiamento e la redenzione. La trama del libro 124 colori dello scrittore Elias J. Connor, pubblicato dalla casa editrice Film Books Edition Firefly, è la seguente. Il giovane Sam Graven, 23 anni, è un temerario. Come capo di una banda di irroratori, è conosciuto sulla scena nel quartiere di Bergen vicino a Colonia e, oltre alle sue capacità di graffitare, per le quali si mette ripetutamente nei guai con la legge, ha un altissimo livello di energia criminale. Quando ha incontrato per caso la diciannovenne Leoni a Merschmitt in un bar, i due si sono trovati subito d'accordo. Ma Leoni ha la minima idea del lato oscuro di Sam quanto lui del fatto che lei provenga da una famiglia protetta e che anche suo padre sia un consigliere comunale. Sam si innamora di Leoni e vuole a tutti i costi nasconderle il suo lato oscuro. Quando un amico di Sam viene gravemente ferito durante un'operazione illegale di irrorazione, Sam inizia a correre il guanto di sfida tra i veri sentimenti e il proprio riconoscimento. Il libro è scaricabile gratuitamente da Amazon, vedi link in descrizione. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.